A circa 20 giorni dalla tappa vastese del Jova Beach Party, che si dovrebbe tenere il prossimo 17 agosto la Marina, al momento non vi è nessuna certezza sul suo regolare svolgimento, si è in attesa di capire quando sarà convocata la nuova Commissione di Vigilanza e Sicurezza, quella in cui si deciderà la fattibilità del nuovo piano presentato dagli organizzatori dell'evento. A riguardo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si è espresso così. Sono emerse criticità come è noto, criticità a seguito del progetto complessivo presentato e queste criticità oggi sono affrontate e le stanno affrontando i tecnici dell'organizzazione che indubbiamente ripresenteranno un piano adeguato a quello che sono stati i suggerimenti della Commissione e a quel punto si andrà incontro, ritengo, a una nuova Commissione che valuterà il piano generale e complessivo ripresentato dalla società che organizza l'evento. Ad oggi non si conosce una data possibile per questa nuova Commissione? No, perché oltretutto la Commissione non la convoca il sindaco, il comune. La Commissione, la richiesta viene, il piano viene adottato da noi, viene trasmesso poi agli organi competenti che convocano la data della Commissione per cui sicuramente mi è consentito dire che sarà convocata prima dell'evento se tutto va bene insomma. Guido Gian Giacomo con la minoranza qui del comune di Vasto avete presentato una proposta di delibera sull'evento dell'estate vastese di cui si è parlato molto in questo periodo, il Jova Beach Party. Perché? A distanza di 18 giorni da un evento così importante che è l'evento cru della nostra stagione turistica non si può non fare un punto della situazione e avere delle certezze. È il nostro dovere garantire a 18 giorni da questo evento che ci sia tutta la possibile collaborazione e che si sia fatto tutto quello che si può fare per garantire questo evento. È chiaro che altrimenti sia un grande boomerang. È evidente che un evento del genere è di importanza fondamentale per il tessuto turistico economico di Vasto. Per adesso noi chiediamo che si faccia ma se qualcosa non andrà come deve andare il conto sarà pesante perché non si può giocare con una città che sulla vocazione turistica da sempre ha fatto il suo punto di forza.